Ennesimo appello accorato e allo stesso tempo un importante campanello d'allarme, quello che lanciano i medici di famiglia. La paura è tanta, centinaia di persone ogni giorno bussano alla porta dei medici per chiedere chiarimenti e rassicurazioni sul rischio contagio Covid-19. La dottoressa Lucia Vaira. Noi cerchiamo di venire incontro alle esigenze della gente perché giustamente sono spaisati, spaventati. Cerchiamo di rassicurare però in effetti non c'è molto da rassicurare perché la situazione, soprattutto qui nel Foggiano, è grave. Dati sempre più in controtendenza, in Capitanata dove nel solo mese di novembre sono morti a causa del coronavirus 271 persone e i medici continuano a chiedere la zona rossa in tutta la provincia di Foggia. A me spaventano i commenti che arrivano dalla TV rassicuranti. Stiamo andando meglio, vedremo di allentare. Noi, tutti i medici della regione Puglia, stiamo chiedendo la zona rossa. Perché noi, per i nostri indici di diffusività, di contagiosità e soprattutto le strutture ospedaliere nostre, che sono già sature, considerate che adesso si stanno incominciando ad ammalare anche gli operatori sanitari negli ospedali. Infine l'invito ad utilizzare al meglio tutti i dispositivi anti-Covid, ad iniziare dalla mascherina. Purtroppo vediamo tutti i giorni persone che hanno queste mascherine sotto il naso, sotto la bocca, mascherine unte bisunte, tenute per mesi e che hanno perso il loro potere filtrante. E quindi rimanete a casa. Anche se non ci hanno imposto la zona rossa, facciamolo noi, coscienziosamente, perché la situazione è drammatica.